ciao ragazzi bentornati nel mio strano canale di elettronica e fai da te ve le ricordate queste due cnc laser di questa della mac pouch ho fatto un video proprio recentemente mentre quella della scoop found il video è molto più datato insomma chi mi segue su instagram sa benissimo che qui dentro non ho praticamente più spazio non riesco più a muovermi quindi devo iniziare a liberare a smontare o a vendere un po di cose voglio iniziare smontando una di queste due cnc sicuramente smonterò questa della scoop found so che è molto più potente il diodo laser rispetto a questo della mac pouch ma ha meno sistemi di protezione e poi è anche leggermente più grande inoltre questa parte è molto più alta e non permette di utilizzare tutta l'area di lavoro al contrario questa della mac pouch riesce tranquillamente perché è molto più basso il modulo laser quindi imiterò la mac pouch questa la smonterò la metterò da parte eventualmente un giorno sostituirò questo modulo con questo perché è decisamente più potente direi di iniziare ma prima devo pulire il banco principale il banco principale è questo qui e come vedete è pieno di roba come effettivamente su ogni banco presente in questo laboratorio vedete non si può far nulla qui non c'è spazio per nulla bancone liberato ok 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 ho smontato il telaio che prima di mettere a posto dovrò sicuramente ripulire è rimasto solo l'asse x che quando acquistate questa macchina vi arriva già ben assemblato tranne che per il modulo io voglio invece smantellarlo in modo da ridurre notevolmente lo spazio prima di tutto direi di iniziare a togliere le viti del telaio in modo da tenerle separate le rimettiamo tutte quante nella bustina originale togliamo il modulo laser basta svitare le due viti a mano e il laser se ne viene facilmente ok questo si è smontato diamo una stretta per non perdere il giunto elastico questi supporti sono sicuramente quelli che servono a far mantenere la perpendicolarità dell'asse z o meglio del modulo alto pirulicchio ok nera di regola andrebbero sostituite guardate quanto sporco è presente sui laterali cnc smantellata adesso dovrò riporla da qualche parte ed ho finalmente liberato un po' di spazio anche se adesso è ancora incasinato un oggetto in meno davanti alle scatole adesso dovrò liberarmi di tante altre cose mi raccomando se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale spuntate la campanella delle notifiche lasciate un bel like e condividete so benissimo che questo contenuto ha poco senso ma voglio iniziare a postare più video su questa piattaforma visto che è da parecchio che non sono costante come sempre vi saluto tutto sudato mi raccomando state va bene ah voglio anche informarvi che ho aperto un mio patreon dove lì praticamente cercherò di fare un piccolo mercatino e vendere tutti gli oggetti di cui mi voglio liberare ovviamente i prezzi saranno bassissimi quasi da regalo ciao ciao